Prima di cominciare il video se volete ricevere delle criptovalute gratis potete partecipare alla giveaway che stiamo facendo per far crescere il canale Spiegherò quindi durante in quasi momento in questo video e come partecipare quindi guardate il video fino in fondo e buona fortuna a tutti Devo mostrarvi un grafico perché è appena successo qualcosa e quando ciò accade di solito porta Bitcoin verso l'alto Quindi ne parleremo e ovviamente andremo anche a parlare per quanto riguarda Bitcoin, parleremo per quanto riguarda Ethereum, per quanto riguarda Cardano E oggi parleremo anche un po' di XRP, vorrei parlarne giusto per cambiare un po' diciamo E quindi ragazzi bentornati a tutti, mi chiamo Marco portandovi video riguardo le criptovalute ogni giorno mostrandovi come fare soldi in questo tipo di mercato Se siete nuovi assicuratevi di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche E detto questo ragazzi entriamo direttamente su Bitcoin e cosa possiamo vedere qui? Bene possiamo vedere che la linea arancione a 47.000 dollari è stata una resistenza molto molto forte E siamo stati respinti e abbiamo provato a rompere diciamo bensì una, due, tre, quattro, cinque volte in queste candele Per esempio guardate questa candela qui, questa è una candela completamente strana diciamo Ma da allora siamo andati molto verso l'alto e proprio ora ci troviamo tra queste due linee arancioni E penso che tutti dovrebbero essere preparati per il fatto che Bitcoin andrà di traverso qui E penso che potrebbe essere il caso, penso che sia salutare dopo aver visto un movimento così grande Come dal livello che abbiamo appunto a 29.000 dollari qui in basso fino al livello sopra Diciamo che appunto avere queste piccole pause va assolutamente bene E inoltre abbiamo anche questa grande resistenza qui ovviamente Ma anche se abbiamo qualcosa che punta a nostro favore probabilmente avremo un movimento verso l'alto presto Quindi mi occuperò di questo e finora con Bitcoin tutto staranno secondo i piani Conquistiamo questi livelli uno dopo l'altro voglio dire Se aliamo, scendiamo, facciamo un po' di fatica qui, abbiamo questa candela enorme, otteniamo il pareggio qui Troviamo supporto a questo livello, scendiamo a questo livello di nuovo per esempio a 43.800 Facciamo sedere il prezzo fino alla linea a 47.000 dollari Scendiamo e troviamo i liberi di supporto Quindi voglio dire è molto ovvio che sapete passo dopo passo siamo in una traditore ascendente E guardate questo, siamo stati rifiutati e abbiamo trovato supporto qui Una volta che abbiamo provato ad andare verso l'alto diverse volte Siamo andati in basso, questa candela è proprietà appunto tra questi due diciamo Quindi se siete impazienti potreste effettivamente giocare su alcuni di questi livelli Se avete necessariamente bisogno di aprire un trade in questo momento Se non avete appunto bisogno di aprire un trade e avete già Bitcoin accumulati Bene, potete aspettare la rottura al di sopra del 51.500 per il trade Ma se avete necessariamente bisogno di fare un trade in questo momento potreste giocare su alcuni di questi livelli Questo è infatti ciò che alcune persone hanno fatto e lo stanno facendo con molto successo Ma è più riscoso appunto provare a giocare conoscendo l'interno di queste vicinanze Invece che comprarli a 42.000 dollari e poi prendere profitti a 50.500 E vedremo se possiamo aspettare una tendenza rialzista più definitiva E qui una volta che superiamo il livello dei 51.500 Se volete aprire un trade a breve termine Quindi sì, è solo uno spunto diciamo di riflessione Inoltre se volete iniziare a fare trading potete ottenere bonus maggiori in questo momento Quindi questo è di 3.600 dollari su Bybit se usate questo link e venite alla squadra Poi avete 2.000 dollari su Femex, ne abbiamo anche 2.200 su Ctrade Quindi assicuratevi di trarre il vantaggio se volete fare trading con questi bonus E adesso Ethereum, dobbiamo ancora superare questo livello sopra la fascia non ce ne è qui E questo può richiedere del tempo, voglio dire Una volta noto questo livello credo che vedremo il prezzo impazzire per Ethereum Ma diciamo che non abbiamo ancora avuto quella pausa Dobbiamo quindi soltanto aspettare e diciamo prepararci e aspettare E certamente invece parliamo adesso di Cardano Quindi Cardano è andato brevemente al di sopra diciamo del mio ultimo livello di resistenza 2.84 dollari Ma da allora siamo scesi fino ad arrivare diciamo a questo punto basso Che vediamo proprio in questa zona Quindi sì, penso che questa sarà di nuovo una resistenza prima di andare nuovamente verso l'alto Ma come ho detto aspettatevi una grande volatilità intorno alla data in cui vedremo gli smart contracts a effettivamente essere lanciati Quindi adesso ragazzi invece parliamo per quanto riguarda XRP Prima di passare al grande fatto del video di oggi Quindi XRP se prendiamo questo fatto Questo è il grafico orario Se consideriamo qualcosa come per esempio le ultime 12 ore per XRP Penso che saranno un po' meglio Quindi potete vedere che abbiamo avuto questo enorme, enorme movimento verso l'alto per XRP Qui stiamo formando un po' una bandiera qui Ho un gagliardetto Guardatelo proprio in questo modo Potete prenderlo in questa sezione proprio qui Il punto è che se il prezzo di XRP si sta consolidando in questo momento E se vediamo un breakout verso l'alto Questo sarà un grande movimento per XRP E ora XRP non stallano molto bene finora in questo ciclo Voglio dire se rimpiccieremo per esempio il tutto e prendiamo il grafico settimanale Quindi se prendiamo questo grafico settimanale e seguiamo e rimpiccieremo il tutto Potete vedere che non abbiamo nemmeno superato il nostro vecchio livello precedente di punto massimo E questa non è l'unica moneta tra le prime 5 che non ha raggiunto il suo massimo storico nel 2018 Ragazzi adesso stoppa un attimo il video e vi do le istruzioni per partecipare alla giveaway L'unica cosa che dovete fare è iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e rispondere a questa domanda Quale pensate sarà il prossimo livello di supporto per Bitcoin? Rispondete nei commenti, inoltre inviate anche il vostro indirizzo BSC nei commenti dove vorrete appunto ricevere le crypto Adesso continuiamo con il video Quindi c'è stato un sacco di diciamo dramma che circonda XRP E non credo necessariamente in XRP a lungo termine Ma come trade penso che potrebbe essere sicuramente qualcosa a cui prestarà attenzione Penso che XRP ha una comunità enorme Voglio dire non importa se credete in XRP o no o cosa ne pensate Ha una comunità insomma molto fanatica E di solito quando XRP decolla decolla molto molto duramente Quindi sì questo è qualcosa da tenere sotto controllo E ora andiamo avanti e parliamo di questo grafico Queste sono tutte le monete stabili sull'exchange E in realtà sono stato taggato ieri su questo Ho ricevuto un'email che cercava di dirmi appunto che probabilmente dovrei fare e dare un'occhiata appunto a questo Quindi diamoci un'occhiata Quindi la cosa è questa La linea blu è la riserva stabile di monete Quindi la quantità di monete stabili sugli scambi o exchange La linea nera è il prezzo invece di Bitcoin E di solito quello che vedete è che quando avete un'iniezione appunto di monete stabili nell'exchange Di solito porta a pompare il prezzo di Bitcoin Potete vederlo proprio qui abbiamo avuto un'iniezione nell'exchange La linea blu è Bitcoin è salito Abbiamo avuto un'iniezione anche diciamo proprio in quest'altra zona Per esempio Bitcoin appunto è salito in questa zona Abbiamo avuto un'iniezione proprio qui E anche qui Bitcoin ovviamente è salito Abbiamo avuto un'iniezione e un aumento durante questo periodo qui E appunto durante questo periodo appunto Bitcoin è andato verso l'alto Quindi di solito a seguito di queste iniezioni Bitcoin diciamo sale E questo diciamo è logico Penso che appunto se ci pensate trasfitte degli stablecoin su un exchange Bene di solito volete comprare di sicuro potete usarlo anche per leva o per shorting Potete usarlo così Ma molto probabilmente influenzerà il prezzo in rialzo sia con l'acquisto normale che con la richiesta Quindi usando le monete stabili come margini Ora potete ingrandire ciascuno di questi picchi Come proprio qui per esempio potete vedere che state seguendo appunto questo movimento E voglio dire potete guardare questo sul grafico con candele orario Qualcosa di simile sui grafici a intervallo minore Potete vedere che di solito vediamo quell'effetto Quindi in questo momento potete vedere che abbiamo avuto un'inizione proprio qui Ma non abbiamo ancora avuto quel movimento in Bitcoin Quindi questo è sicuramente qualcosa a cui prestare attenzione Quindi monete stabili sull'exchange Vi terrò ovviamente aggiornati su questo ragazzi Se di recente appunto avete realizzato profitti folli in Bitcoin Considerate anche di donarne un po' a causa della situazione appunto che sta accadendo anche in Afghanistan Proprio in questo momento Le persone stanno cercando di fuggire Sostanzialmente vengono bombardate a morte Il che è orribile Quindi se possiamo fare qualcosa per salvare vite E avete l'opportunità di farlo Perché non condividere solo una piccola parte dei vostri profitti E provare appunto a salvare alcune vite Io lo sto facendo e se avete l'opportunità di farlo diciamo perché no Quindi insomma spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi E grazie mille per la visione di questo video Come sempre ci vediamo al prossimo Grazie mille per la visione di questo video